Veterani dello sport di Arezzo, ci troviamo qui nella storica sede, nella nuova sede veramente ben fornita di scimedi, di fotografie e si è recentemente insediato il nuovo consiglio direttivo. Sono stato rieletto presidente con grande onore ma con grande piacere perché personaggi nuovi e importanti daranno lustro e vita a questa associazione. Mi preme ricordarli e presentarli uno per uno perché chiaramente sono persone che con il loro impegno dovranno ridare la tonicità che era venuta meno negli ultimi tempi. Alla mia sinistra abbiamo il dottor Vegni, Varelio Vergni da Sansepolcro, un altro personaggio che è conosciuto alle cronache retine, ex presidente dell'AIA di Arezzo, il nostro buon Giancarlo Chiappini. Un'altra presenza importante è il nostro Mario Mazzi, il nostro eccezionale ex addetto alla motoristica del CONI e quindi un personaggio che conosce tutto quello che tratta dei motori e noi dei motori abbiamo bisogno per rimettere in moto questa organizzazione. E particolarmente ci preme ricordare l'intrateveretano che è una manifestazione che vale soltanto il costo della tessera venire a vederla. Lancini Giovanni è un personaggio da resto storico ma è una nuova figura in questo consiglio direttivo. Chi chiaramente non è nuova ma è molto 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 anziana è la nostra tesoriera. Alda Rossi immancabilmente lei la storia del veterano dello sport ma chi non è con noi ma lo sarà lo diventerà è il nostro buon Palazzini Franco Palazzini un geniale un geniale veramente io lo conosco in doppia veste mi è uscita la parola calcite però io chiaramente ormai sono conosciuto per il frate da cerca del calcite. E' il nostro Palazzini che ha ideato e inventato il mercatino del calcite ma non soltanto quello perché il vulcanico estrionico Franco Palazzini è un elemento insuperabile. Noi auguriamo un proseguo felice a tutti, un buon lavoro e incamminiamoci tutti assieme e cerchiamo di migliorare quello che se non è stato fatto. Grazie a tutti, grazie a questa emittente che ci dà l'opportunità di essere tra le vostre case e speriamo di avervi tutti con noi qui in questa magica e magnifica sede. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.